In attesa dell'informativa urgente sui fatti di Cutro, martedì alla Camera, Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, vola a Malta per il vertice dei paesi del Mediterraneo. Riunione funestata dalla tragedia che si è consumata nelle acque calabresi e che diventa occasione di impegni fattivi e irrinunciabili sul fronte dell'immigrazione senza regole. Insieme ai greci, ai ciprioti, ai maltesi, agli spagnoli, l'Italia, studia soluzioni comuni da portare sul tavolo del Consiglio europeo dei ministri dell'Interno, fissato tra pochi giorni. Il superamento degli accordi di Dublino insieme alla questione della ridistribuzione dei profughi sul territorio dell'Unione restano capitoli aperti e dai quali non si può prescindere. Sempre più necessario diventa l'obiettivo di stipulare nuovi accordi di cooperazione con gli stati di provenienza degli immigrati per, da un lato, bloccare le partenze, dall'altro favorire i flussi regolari e, in tal senso, Francia e Italia daranno vita a missioni congiunte in Tunisia e Libia. Da sottolineare che al vertice di Malta ha partecipato anche il ministro svedese per l'immigrazione a nome della presidenza del Consiglio dell'Unione, oltre al nuovo direttore esecutivo di Frontex, al centro della polemica per la questione delle mancate segnalazioni d'allarme per il barcone che a largo dello Ionio si sarebbe poi schiantato sulle coste di Cutro con il suo carico di vite spezzate.